Ciao ragazzi, vi volevo chiedere una cosa Se fare un video di gameplay a Killzone o Vice City, quale meglio preferite? O se sceglierete Killzone, vedrete come gioco online, fare una partita di due o tre parti O se volete scegliere Vice City, con la PSP, non potrò fare più